buongiorno buongiorno a tutti i ragazzi benvenuti bentornati sul canale twitch di atleta league oggi con una puntata un po particolare vuoi per l'orario inusuale per noi ma siamo comunque contenti di essere qui perché abbiamo a fianco a me ancora non lo vedete ma tra poco lo vedete rocco rocco guerra che è eccolo qui campione giorno campione italiano lo possiamo dire di il ceiling 2020 2020 ultimamente abbiamo anche vinto l'american scappi virtuale 2021 quindi veniamo ti sei lanciato insomma hai fatto un 20 21 alla gran massimo che ti ha avvalso anche la la presentazione diciamo come come si può dire sei stato inserito tra i possibili tra i finalisti del premio velista dell'anno per i risultati del 2020 e quindi eravamo rimasti cinque finalisti e ieri siamo stati alla premiazione qui a roma benissimo siamo stati anche noi abbiamo avuto modo di vedere anche di conoscere un po più da vicino il mondo della della vela che è un mondo un po forse meno conosciuto ai più al grande pubblico anche se poi le grandi imprese portano sempre un sacco di emozioni no un po uno sport meno conosciuto diciamo è molto collegato al mare naturalmente chi non se lo trova vicino chi non se lo trova nella cultura della propria infanzia non lo conosce è noi però porti e proviamo a portarlo dappertutto anche con questa nuova esperienza del virtuale dove possiamo arrivare anche in zone dove il mare non c'è esatto esatto ecco infatti questa è proprio la l'esperienza un po che che rappresenta rocco che al al tag è rock on fire con fire è nato questo nome dato che la barca dove principalmente careggio si chiama razzon fire che posso dire che non è un non c'è non non siete superstiziosi nel nel virtual nel virtual regatta io di meno c'è chi lo è di più sì sì abbiamo tutti i tipi di persone anche lì una barca un fire di solito non è un non è una buona cosa ma sull'acqua si spegne tutto andiamo su questa filosofia perfetto per rocco oltretutto non è solo campione di e ceiling quindi di vela virtuale ma è stato o è tuttora un regatore reale si gareggio anche su delle barche vere ho cominciato in optimist e 4 20 fin da piccola otto anni e ora faccio delle regate di altura su un ilc 40 che era zon fire di manfredonia dove dove vivo continuiamo su questa strada e quindi è questa proprio la un po la particolarità che interessa a noi di di atleta manc credo anche in generale ovvero passare da una barca reale perché non la chiamiamo vera o finta perché anche quella virtuale comunque collega in qualche modo da una barca reale mare vento a da che però insomma è un gioco un software che riproduce riproduce devo dire anche in modo molto reale quello che sono le regate sia offshore che inshore quindi sia su piccoli percorsi che su lunghi percorsi anche oceanici abbiamo diciamo abbiamo per fortuna la possibilità anche di replicare queste legate a casa sicuramente la vera reale implica un un enorme impegno fisico ma la via virtuale ti costringe a studiare bene la tattica a capire bene qual è la la strategia che bisogna applicare nel campo quindi è una cosa che impegna molto la parte mentale dove appunto si vanno a sviluppare anche competenze che poi si producono nella vita reale ovviamente non ci sono vele corde sicuramente no ma abbiamo tutto aspetto tattico anche diciamo replicativo del match race del team race quindi abbiamo anche regate dove si gareggia in uno contro uno in due contro due questa è una cosa che sviluppa molto anche la tattica che poi si può usare nella vela reale senti ma mi interessava anche questa cosa tu ti sei avvicinato alla vela virtuale diciamo con il lockdown giusto sì sì ho cominciato con il mio equipaggio reale per diciamo per rimanere in contatto per divertirci insieme dopodiché ho partecipato al primo mille per una vela organizzato dalla fib che la federazione italiana vela e dove ho conosciuto nuove persone da lì mi sono iniziato ad allenare con loro ho visto che avevo delle possibilità e dopo è spuntato appunto questa possibilità di avere un team italiano che è quello di mcs italia dove ci continuiamo ad allenare cerchiamo di diventare sempre più forti e addirittura siete arrivati a qualificarvi per le olimpiadi degli sport virtuali che sono tuttora in corso sono tuttora in corso la prima è stata conclusa sul laser dove abbiamo filippo nostro compagno di team filippo lanfranchi qualificato scusami definiti spiegaci è un singolo è una deriva quindi può ribaltarsi può scuffiare ed è un singolo con una sola vela dove appunto si svolgono regate su bastoni quindi su due più corte più piccole e abbiamo filippo che che si è riuscito a qualificare una barca diciamo semplice ma dal punto di vista tattico molto complicata perché subisce molto l'effetto del vento delle rotazioni delle intensità quindi molto veloce scattante sì 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 non è una barca che diciamo ha bisogno di essere portata meglio degli altri ma una barca che va tatticamente portata meglio degli altri ok ok mentre mentre tu nel nel contesto punto olimpico io nel nel contesto olimpico diciamo punterò alle prossime che sono fortinene rennacra ce l'abbiamo tra poco sono diciamo doppi tutte e due quindi si va in due hanno tre vele di cui due quasi sempre alzate sono rando e fiocco e poi abbiamo un gennacra che si mette solo di poppa diciamo sono barche anche se subiscono molto intensità ma appunto sono più divertenti dal mio punto di vista sono barche più veloci diciamo con manovre molto più divertenti settima invece il discorso equipaggio nella virtual regatta cioè mentre sei su una barca l'equipaggio si 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 tocca cioè vai davanti e quando no invece anche noi anche noi parliamo tra di noi durante le regate ad esempio quando gareggiamo in team anche noi siamo in una chat vocale quindi discutiamo parliamo di tattica abbiamo spesso anche una persona esterna alla regata che ci aiuta appunto in queste scelte grazie a questo riusciamo ad avere diciamo ottime prestazioni anche lì senti ma invece appunto il sei passato per motivi contingenti pandemici no da dall'essere un velista a essere un ivellista e nel frattempo mi mi dicevi questo questo retroscena c'è rocco con il suo agente si è fatto la skipper skipper scusami scusami con il suo skipper si è fatto ieri manfredonia roma che sono discreti chilometri abbastanza per la premiazione e mezza di macchina per la premiazione del velista dell'anno tra l'altro complimenti a tita e banti che hanno vinto hanno vinto questo titolo che sono un equipaggio di naca 17 appunto dove andremo ad affrontare tra poco le olimpiadi virtuali per la terza volta hanno vinto il per la terza 17 18 a 16 anni a 16 anni rocco guerra quasi 17 ad agosto ad agosto e avrà a tutto il tempo del mondo per essere speriamo di andare sempre meglio di noi ovviamente te lo te lo auguriamo e ma poi mi dicevi sei già in partenza devi devi scappare per un traghetto abbiamo abbiamo una regata sulle isole olia che partirà dopo domani e quindi siamo già in partenza per per i prossimi per i prossimi competizioni quindi tu praticamente di ti muovi tra barche reali e barche virtuali spesso mi capita di finire allenamenti o regate di giornate intere in barca arrivare a casa e gareggiare anche nel virtuale ed è una cosa che mi piace mi piace collego bene le due cose non ti confondono le anzi mi aiutano si aiutano a vicenda e per quanto riguarda invece la un atleta che affronta una gara è sempre una parte di tensione no di pressione e diciamo che la vela implica anche tutta un'altra serie di pressioni che possono essere quelle legate alle condizioni atmosferiche al mare che comunque un elemento della natura è sempre da imprevedibile imprevedibile da rispettare però ecco qual è la differenza proprio di pressioni rispetto a una una regata virtuale quella reale cose nelle due in una regata virtuale quello che mi fa più pressione avere i miei familiari vicino a me pensiero il pensiero di si 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 mira mette molta più pressione di quando sono in acqua perché in acqua mi trovo quasi nel mio ambiente sono nove anni che faccio vela e quindi diciamo sono più abituato il fatto di più casa tua infatti si può dire perché il fatto di regatare a casa per me è una cosa nuova è un anno che lo faccio mi mette molta più pressione avere i miei familiari vicino è una cosa nuova un po per tutti penso perché certamente regatare quindi regatare regatare sto imparo termini nuovi è un certo sempre comodo la fine è il mio lavoro quindi grazie quindi regatare a casa che vuol dire cioè tu ti metti davanti al tuo device cuffie quindi studio c'è ovviamente c'è bisogno di una preparazione alla concentrazione molto più intensa di quanto si pensa io mezz'ora prima della regata sono già tra virgolette off dalla vita normale e quindi cerco di mettere la testa solo su quello cerco di concentrarmi molto e spero di riuscire a continuare così quindi avresti bisogno di un posto che non sia casa tua per legate possiamo dire così si spesso mi chiudo anche a chiave in camera proprio per isolarmi per isolarmi da tutto va bene quindi un appello ai genitori ai familiari di rocco quando lo vedete lì al computer a velare lasciatelo sta a regatare lasciatelo stare perché insomma ha bisogno di tutta la concentrazione del del caso senti invece appunto stavamo parlando del galà della premiazione che si è tenuta ieri sera poi mi direi anche anche meglio ma sei arrivato diciamo a essere tra i papabili velisti dell'anno proprio perché campione italiano di virtual regatta e insomma promessa anche nell'ambito olimpico visto che per la prima volta per la prima volta abbiamo avuto questa nuova possibilità delle olimpiadi virtuali che è un buon punto di partenza appunto proprio per questo per questo ambiente devo dire che mi fa piacere il fatto che sia stato anche esteso ad altri sport perché è una cosa che diventa quasi sempre più normale e quindi ci fa piacere benissimo benissimo senti ma è proprio proprio il punto di vista del il tuo punto di vista insomma da atleta da sportivo nel momento in cui ti sei messo in competizione nel virtuale diciamo hai trovato un altro livello competitivo rispetto a quello che è quello reale perché comunque insomma la vela italiana assolutamente il problema della vela virtuale è che ti vai subito a scontrare con persone che sono ai vertici dell'ambiente mentre con la vela reale fai un passo alla volta parti dalle regate regionali che si chiamano zonali l'italia divisa in zone per la federazione quindi si chiamano regate zonali piano piano arrivi alle nazionali poi gli europei mondiali mentre nella vela reale sei già dentro a tutto questo ambiente quindi è un grosso passaggio che che spesso destabilizza anche le prestazioni di un altro vita ma questo perché penso immagino perché virtuali siano di meno le certamente sì certamente sì siamo siamo di meno ma ma il cerchio ristretto perché il problema è che appunto chi ci rimane affezionato è proprio chi chi ci va bene chi ci va forte quindi l'ambiente diventa aumenta sempre il livello senti invece il tuo passaggio quindi reale virtuale è una cosa comune o ci si avvicina alla vela virtuale anche da neofita insomma ci sono molte persone con cui ho avuto modo di parlare che non sono mai salite su una barca eppure in questo gioco virtuale vanno forte vanno bene quindi io dico che non c'è assolutamente bisogno di conoscere una barca per poter giocare al virtù regato ok quindi basta sapere le regole conosce certo ovviamente le si apprendono come nella vela reale come parti da zero nella vita reale parti da zero anche nel se ti si ribatta la barca hai sbagliato qualcosa esattamente senti invece parliamo un attimo delle prospettive future visto che nei prossimi giorni ai ai regate e si l'ora delle olimpiadi virtuali quando saranno ad agosto l'obiettivo è ovviamente partecipare alla finale e dopo di questo ci sarà ad ottobre il mondiale che andremo a fare in presenza in omen dove ci saranno solo otto atleti e io sono riuscito a qualificarmi tra questi otto e quindi andremo a fare questa grande competizione che è un altro degli obiettivi del 2021 quindi il mondiale di virtuale regatta in otto qualificati otto atleti qualificati io sono stato il primo grazie alla vittoria dell'americans cup virtuale del 2021 che ho avuto a inizio anno sicuramente complimenti e grazie sa che poi invece le olimpiadi non possano aprirti altri altri l'impegno ce lo mettiamo sempre però ci sono anche le regate abbiamo anche le regate reali che non ci facciamo mancare niente diciamo la prossima la prossima importante è l'italiano a puntala che è dove cercheremo di andare diciamo ovviamente speriamo in una ottima prestazione anche lì e invece team parliamo di team italiano hai citato giustamente mcs di cui porti finalmente la risa e quanto ti è servito ti è potuto servire visto che ti sei avvicinato a un mondo competitivo virtuale solo recentemente proprio l'appoggio di un team professionista sicuramente è una cosa nuova per me non sapevo neanche che esistessero questi team ci seguono sempre ci aiutano sempre alla alla stessa premiazione del visita dell'anno ci sono stati io li ringrazio ovviamente è una cosa che ci ha legati molto come team quindi riusciamo ad allenarci tutti insieme quindi avendo risultati migliori di allenamento appunto abbiamo dei coach che ci aiutano molto in questo questo progetto ci stiamo trovando bene allora giusto per per precisare perché poi rocco giustamente è in mare c'è altro a cui pensare noi chi è venuto a farti le interviste ieri non era mcs che comunque c'era certo certo perché c'è vischio dall'altra parte che andrea che è quello che ti ha fatto le interviste ieri che poi giustamente poi dice no che caro allora il nostro redattore nostro redattore e sport e moderatore di su twitch quindi ti ascolta l'ho detto per il devo stare attento stare molto attento molto attento sì 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 no comunque è vero team professionistici esistono e sono sicuramente molto utili per atleti a giovani b che si avvicinano un po per la prima volta a una nuova esperienza un nuovo mondo che rispetto a quello della vela quindi federazioni coni federazione segretari coach eccetera eccetera è un po meno strutturato certo soprattutto quello della via virtuale ovviamente che un mondo che si sta diciamo iniziando ad avviare solo ora sviluppare solo ora però abbiamo federazioni abbiamo questi team appunto che ci seguono e ci danno una grossa mano e quindi riusciamo ad andare avanti molto velocemente un mondo che si sta sviluppando molto velocemente rispetto agli altri anche perché appunto essendo virtuale ha una capacità di espansione esponenziale certo certo anche l'appassionato di vela cioè abbiamo avuto anche grandissimi nomi in alcune regate io ho avuto modo di parlare attraverso il gioco anche con james pitillo che è lo skipper di luna rossa la barca che ha partecipato all'american's cup italiana quindi abbiamo molti nomi importanti anche no infatti come mi dicevi di solito chi partecipa a virtuale regatta è proprio proprio questo gruppo di persone appunto molto esperte ma ribadisco che nel mio percorso ho trovato molte persone che non erano mai salite in barca che addirittura molti termini non li conoscevano neanche però seguendo il gioco il funzionamento del gioco erano riuscite tranquillamente ad avere dei buoni risultati va bene va bene allora ci cimenteremo sicuramente potrebbe essere divertente appunto sei stato ieri al galà la premiazione presente il presidente torre della federazione vela ma anche malagò anche malagò la squadra olimpica di vela abbiamo avuto anche l'equipaggio di luna rossa rappresentato dallo skipper maxirena e sono nuove esperienze per me diciamo è la prima manifestazione importante a cui partecipo c'erano molti nomi importanti ed è stato molto emozionante e invece il tuo rapporto appunto allora domanda un po' diciamo tra bocchetto giustificatela bene e all'interno della federazione invece tra i tuoi colleghi magari atleti com'è stata la reazione a virtual regatta cioè tu ti presentavi lì diciamo come candidato velista dell'anno in quanto campione campione di cilindri ovviamente questo questo premio ha riguardato solo i risultati del 2020 quindi è rientrato appunto il campionato italiani sailing essendo una nuova disciplina tutti gli effetti della federazione sono riuscito a entrare nei criteri per essere finalista del premio del velista dell'anno quindi sicuramente la federazione ha un nuovo progetto lo sta sviluppando e a noi fa solo piacere perché ci segue ci aiuta fa delle manifestazioni bellissime e ne siamo contenti no siamo contentissimi anche noi perché oltretutto siamo noi parliamo di sport storia di sport ma anche e per non dire soprattutto anche di e sport di giochi e sport virtuali quindi sapere che una federazione poi anche importante come si è una cosa che ha aiutato ancora di più lo sviluppo ovviamente di questo di questo mondo virtuale come community italiana siamo una delle più popolate al mondo quindi abbiamo siamo avanti anche rispetto ad altri paesi ma tu pensi che la passione che può portare virtual regatta e quindi gli appassionati anche possa contribuire in qualche modo anche a portare appassionati anche nella vela reale sicuramente è una cosa che ti avvicina molto all'aspetto competitivo della vela ma non significa questo che non possa avvicinare ovviamente anche all'aspetto solo del mare quindi del solo piacere di stare nel mare succede anche il contrario succede che molte persone che ho incontrato nella vela reale per curiosità appunto dopo che io ho iniziato a giocare si siano avvicinate anche loro a questo mondo quindi è un aspetto reciproco delle due cose allora tu sei di Manfredonia quindi diciamo che il mare ce l'ho vicino a casa è un elemento è un elemento costante quanto ti manca però quando non c'è e quanto magari invece in una in una regata ti è capitato di voler tornare a terra allora quando sto in mare l'ho detto anche prima sto tra virgolette a casa mia quindi sicuramente mi manca tanto quando lo vedo e ci voglio tornare subito non mi è mai capitato di stare in mare e pensare a quando tornare a terra perché mi trovo davvero a mio agio e sono tranquillo lì potrei rimanerci benissimo ti auguriamo di starci quindi il più a lungo possibile e nella mia ignoranza ovviamente stavo stavo vedendo prima quali sono le gare della finale olimpica di virtual regatta è una regata mica da poco quella che porta da Rio a Tokyo è una regata dell'offshore che dura poco meno di un mese ovviamente questa durata può variare in base alle condizioni meteo in base alla velocità della barca alle condizioni è una delle più complicate ecco prendiamo questo esempio questa regata che poi è l'offshore che vuol dire quindi in mare aperto in mare aperto di lunghe distanze lontano da costa e prendiamola per esempio per spiegare magari a chi non conosce il gioco ma anche chi conosce poco la vela di che cosa si tratta quindi allora il percorso è partenza da Rio de Janeiro arrivo a Tokyo abbiamo diversi passaggi di cui due da sud e due da nord dove nella maggior parte dei casi passeremo sotto l'India e poi risaliremo fino a Tokyo io ho preso questa scelta ci sono stati amici miei che hanno preso la scelta di andare a nord tra i ghiacci e poi di riscendere verso Tokyo questo perché? perché si fa una distanza minore però c'è il rischio appunto di rimanere bloccati tra i ghiacci o di avere condizioni meteo che non ti permettano di passarli quindi è un po' interno all'otto sono barche tutte uguali ovviamente quindi hanno le stesse capacità di performance e quindi dipende tutto da noi che le portiamo diciamo decidiamo le rotte in base alle previsioni meteo previsioni meteo che sono quelle reali sono quelle reali le condizioni sono quelle reali presi da appunto ambienti reali e quindi spesso per dare conferma appunto di queste previsioni usiamo anche stazioni meteo reali ah ok quindi per controllare che sì sì per verificare le condizioni fantastico fantastico ma nella vita reale scusami nelle in una vela reale queste queste rotte sarebbero comunque possibili o sono possibili perché sono assolutamente possibili e sono sono tuttora già navigate tra virgolette e ovviamente hanno una cosa in più che è la barca che dà un grosso impegno dove appunto abbiamo spesso queste traversate in solitario dove ci sono gli skipper che dormono un'ora al giorno due ore al giorno però è una cosa che richiede preparazione abbiamo mesi e anni di lavoro prima di queste di queste prove appunto che sono davvero tanto impegnativa ma senti in un mese bisogna fare quindi Rio Tokyo e in un mese di gare che si svolgono tutti i giorni tutti i giorni la barca non si ferma mai non abbiamo tappe è una sola tratta dove appunto abbiamo da Rio a Tokyo la barca non si può fermare perché è una gara bisogna vedere chi arriva prima e chi si ferma è dietro quindi anche scusami le domande le domande banali di cui ti dicevo all'inizio e quindi tu quando accendi sostanzialmente il il software il gioco lo chiamiamo che gioco lo possiamo chiamare il gioco e la barca continua ad andare si la barca va avanti tu gli imposti una rotta impostiamo una rotta che vada già a definire appunto precedentemente qual è la tratta che andrà a fare la barca dopo di che appunto quando accediamo al software abbiamo la barca rappresentata in un'immagine abbiamo delle varie varie strumentazioni che possano essere l'intensità del vento che possano essere le previsioni che ci sono anche proprio sul gioco dove possiamo avere dei cambi di vele possiamo diversificare la rotta della barca appunto e fare la tappi e quali sono le criticità le difficoltà cioè puoi ritrovarti con la barca fuori rotta sicuramente spesso le previsioni cambiano ad esempio quindi se non vengono controllate molto spesso ci possiamo ritrovare in dei cali di vento e barche che ci passano a 2-3 miglia che hanno vento ci superano molto facilmente ok quindi queste sono un po' le le criticità le difficoltà che si possono affrontare all'interno del gioco e che altro ti volevo chiedere no proprio di questo perché poi è è strano no che ci sia una barca che segue un percorso una barca virtuale che però segue un percorso reale perché il mare che potrebbe essere a tutti gli effetti reali è una simulazione vera e propria le condizioni meteorologiche sono le stesse se accendi il software e la barca è rovesciata ad esempio nel gioco non può capitare questo perché anche nella vita reale a meno che non si hanno danni strutturali alla barca le barche non si ribaltano soprattutto questa tipologia di barche che hanno appunto una chiglia molto pesante fatta in modo tale da non far ribaltare la barca abbiamo una categoria di barche più piccole che si chiamano barche propedeutiche derive che vengono usate dai ragazzi più piccoli che si possono ribaltare come ad esempio il laser ok quello che mi dicevi all'inizio infatti quanto tempo potete stare lì durante la finale durante la gara o potete stare volendo a seguire la barca virtuale noi possiamo scegliere quando seguirla ovviamente questo lo si fa in base alle previsioni in base agli orari la gente che ha il fuso orario inverso quindi all'altra parte del mondo sicuramente ci fa più attenzione la mattina e il pomeriggio mentre che è la notte noi il contrario ovviamente dormiamo anche noi dormite non una due ore a notte come gli schiffer in solitario per fortuna ci possiamo permettere di più poverini loro senti ma invece qual è il tuo il tuo desiderio la tua aspirazione anche magari virtuale o reale sogni di fare una regata in particolare beh il sogno reale è quello dell'american's cup che è una delle competizioni se non la competizione più importante al mondo di Vila oppure sono molto appassionato anche dalla Volvo Ciandris che è appunto un giro del mondo a tappe ok quindi insomma legate impegnative sì 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 puntiamo al massimo ovviamente per ora l'olimpiade quindi per ora l'olimpiade è solo virtuale per ora sì però comincerò appunto anche ad allenarmi su una classe olimpica reale che sarà probabilmente quella del 470 che è un doppio dove si va in due e quindi vediamo speriamo di dare il massimo anche lì bene noi ovviamente te lo auguriamo ci auguriamo ma in realtà ci auguriamo per tutta la vela italiana migliori possibili successi a Tokyo quest'estate una squadra olimpica di assoluto livello abbiamo veramente abbiamo dei campioni in Italia che già diciamo tra virgolette danno spettacolo facciamo l'esempio appunto di ieri di Tita Banti che hanno vinto sia l'europeo che il mondiale in due anni di fila e si avvicinano quindi si avvicinano ovviamente all'olimpiadi a Tokyo ma ti vuoi vuoi sbilanciare in un in un pronostico quali sono le imbarcazioni che dobbiamo possiamo temere a Tokyo o abbiamo sicuramente un livello molto alto nel NACRA con appunto questo equipaggio fortissimo che ha vinto ieri anche l'Atleta dell'Anno che può dare molti risultati ma allo stesso tempo anche sulle tavole penso che abbiamo degli atleti molto competenti tavole tavole sono scusatemi no no scusate l'ignoranza le tavole sono una disciplina della vela dove appunto questa tavola viene dalla tavola la surf alla stessa forma e c'è una vela che ha una forma di un'ala attaccata e queste tavole appunto essendo molto leggere raggiungono velocità molto importanti e richiedono anche un molto impegno fisico perché è una cosa che ti comporta tutto il corpo ah ok ok ho capito ho presente quindi quello il windsurf esatto quello che io banalmente chiamo no no ma è così è così che è ecco Vischio infatti vedi che si è che si è ripreso ti chiede se hai proprio tu un velista un idolo di riferimento James è uno dei più importanti ha partecipato a tante Coppa America ed è sicuramente uno dei miei idoli da quando sono piccolo ti ha ispirato il suo modo di regatare la sua tenacia la sua determinazione ho seguito le regate di luna rossa e ho visto anche diciamo i discorsi che facevano a bordo durante le regate mi ha affascinato molto ah quindi ti ha affascinato prima il rapporto tra lui e l'equipaggio sì e tu che rapporto hai con il tuo equipaggio io sicuramente un rapporto che e poi sono tutti coetanei avete tutti sì abbiamo cercato appunto di fare questo equipaggio giovanile appunto anche se su una barca più grande ma ma che ci tenesse comunque nel nostro ambiente più senza nulla volere hai più la coletà ovviamente vabbè giustamente è solo per stare esatto in un ambiente che possa coinvolgerci di più appunto e ad andare sempre meglio poi quello che si dice spesso in barca bisogna star con persone che con cui si sta bene fidate ovviamente perché questo cioè stare in mare in una barca con un equipaggio vuol dire che ci devi convivere vuol dire che 18 20 ore su 24 devi passare con quelle persone quindi se non ti trovi bene non puoi non puoi andare avanti non ce la puoi fare invece nel virtual regatta hai il problema della famiglia dei genitori insomma delle pressioni familiari potrebbe essere paragonato a un equipaggio quello della famiglia però allora l'equipaggio ti mette pressione anche anche ovviamente una volta che fai un errore o che fallisci una prova la famiglia funziona come l'equipaggio ecco ti mette pressione perché sai di dover uscire dalla stanza e dire no oggi ho perso no oggi ho fatto questo errore quindi è una cosa che mi coinvolge molto va bene ci piace anche questa immagine un po' questo parallelo tra equipaggio e famiglia perché alla fine poi sono assimilabili sono due concetti molto vicini immagino come anche l'unica cosa che cambia è che l'equipaggio è una cosa professionale la famiglia è una cosa che ce l'è da quando nasci te lo ritrovi la famiglia te la sei ritrovata in qualche modo l'equipaggio te lo puoi scegliere alle brutte qualcuno lo puoi buttare fuori bordo no per carità questo meglio meglio di no va bene allora io devo dire che ho imparato un sacco di cose sulla vela e visto anche il periodo potrebbero essere un sacco utili chissà che chissà che non ci vediamo più in là non ci si veda in barca me lo auguro io auguro veramente di tutto cuore a Rocco Guerra di avere i migliori maggiori successi grazie grazie mille nelle regate reali e virtuali che lo aspettano alcune anche decisamente impegnativi importanti sia per lui sia per diciamo il team che rappresenta ma anche un po' per tutti noi per la federazione per l'Italia si parla di olimpiadi si parla di tricolore si parla di tutti insomma ci siamo molto legati di nomi e team quindi io ringrazio Rocco lo lascio lo libero perché ha un traghetto a breve e deve andare a cercare di farsi fare un tampone da qualche parte e è stata breve ma sicuramente intensa ringrazio ovviamente voi per l'ospitalità e alla prossima alla prossima Rocco ci risentiremo presto io volevo prima di tutto ricordare chi ci segue di lasciare il follow sul canale Twitch per seguire tutte le dirette compresa quella di stasera alle 19 una nuova intervista questa volta con Franco Depp 99 una nostra conoscenza caster di Rocket League che ci parlerà un po' meglio del suo gioco della sua esperienza e anche di qualcosa di nuovo a più tardi ragazzi e vi ringrazio grazie per averci seguito se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video iscriviti al canale seguici anche su Twitch Instagram e Facebook i link li trovi in descrizione ciao a presto